E continuiamo quindi a vedere come hanno passato la notte di Halloween i nostri personaggi di Uomini e Donne. Questa volta ci dedichiamo a vedere quello di Ramalaila Giustini, insomma abbiamo visto le varie maschere dei tretronisti in carica, Andrea Cerioli, Teresa Ciglia e Jonas Berami, abbiamo visto la extroncita Anna Munafo, e i corteggiatori Sharon Bergonzi e Emanuele Trimarchi. E adesso è la volta proprio di Ramalaila, che vi diciamo la verità a giudicare da come è apparsa in precedenti foto pensavamo di vedere chissà quali cose a questo giro e invece ha optato per una maschera abbastanza minimal, insomma come direbbe la stylista Anna e mi dispiace. Bocciata. La chiudo con una punta di cattiveria, secondo me si è travestita molto easy per non dare alito ad altre polemiche che probabilmente ci sarebbero state che ne dite. E per voi Ramalaila Giustini è promossa o bocciata.